Con Mr. Nicola Gerbic una battaglia, una partita durata quasi tre ore, alla fine vince Verona 3-2. Sì, abbiamo diversi problemi fisici con i giocatori che non sono disponibili. Alcuni per un periodo più lungo, altri per precauzione. Penso che dobbiamo tenere conto di un campionato che è molto 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 lungo e quindi di questo dobbiamo rendere conto. Per cui alcuni li abbiamo tenuti precauzionalmente a riposo perché penso che c'era il rischio che le cose peggiorino e allora abbiamo preferito non rischiare. Sono stra contento per la vittoria di per sé perché è una vittoria contro una squadra che veramente sta giocando molto bene dall'inizio del campionato. Che ha fatto sudare Piacenza, che ha battuto Trento 3-0 e che sta giocando una bella pallavolo. Per cui era un avversario molto molto difficile e noi eravamo in una condizione difficile. Per cui sono stra contento che siamo riusciti a portare alla fine il risultato positivo ma ancora più importante è il come è arrivato. Quanto può significare questa vittoria per il campionato di Verona? Moltissimo. Non solo dal punto di vista della classifica ma soprattutto del morale perché veramente i ragazzi ce la stanno mettendo tutta e quello che stanno facendo in allenamento, nell'approccio, nel lavoro quotidiano si vede anche in gara e ci sta ripagando. Per cui siamo sulla strada buona e penso che questa strada, questo atteggiamento dobbiamo mantenere e possiamo andare solo a migliorare quando tutti gli acciacchi li smaltiamo, quando cominciamo ad essere al completo e quando avremo un periodo per poter lavorare in serenità. Ringraziamo Mr. Gerbic e complimenti per la vittoria di questa sera. Grazie a voi.